Aranciata e birra e coca? Aranciata e birra e coca? Eh lo so, ma i tempi sono cambiati. Oggi ci sono i panini piastrati. Panini piastrati? Sì, 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 proprio così, proprio così. Panini piastrati da Roberto Novello. Rarissime specialità. Panini piastrati. E come te lo fanno questo panino? Te lo fa come te pare, però sono piastrati. Panini piastrati da Roberto Novello a San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Ammazza quanto... Panini piastrati. Viale della rinascita 140. Conviene prenotare 329-4335-764. Panini piastrati da Roberto Novello. Una garanzia. Cosa? Certo che ci sono anche i primi. Panini piastrati da Roberto Novello. Grazie a tutti.